Io ho calcato, l'ho scoperta perché io ho una storia un po' particolare, nel 78 a 17 anni sono partito, sono andato in India, ho abbandonato la scuola, tutto quanto, perché era un periodo un po' difficile, a Roma, gli anni di piombo, rapimento moro, e sono andato in India sette mesi. Quindi, quando sono tornato da questo viaggio bellissimo in cui ho visitato l'Himalaya, il Nepal, il Ladakh, il Kashmir, praticamente il mio orecchio si era abituato a sentire solo suoni naturali, quindi non riuscivo più a ascoltare musica fatta con strumenti amplificati elettrici. E in quel periodo a Calcata io mi sono trasferito e a casa mia l'ambiente era veramente indiano, nel senso non c'erano sedie, c'erano solo tappeti, si suonava seduti per terra sui cuscini, con gli incensi, il sitar, l'armonium indiano, quello strumento che forse puoi inquadrare sta lì, che è uno strumento devozionale indiano, che io suono, poi c'era il pianoforte, e quindi per il primo periodo in cui sono stata a Calcata mi sono dedicato soprattutto alla musica acustica. Poi piano piano sono tornato alle mie vecchie passioni, quindi l'ho scoperta perché praticamente girava voce che c'era questo borgo inizialmente che si diceva era abbandonato, perché in effetti gli abitanti di Calcata, quando sono state costruite le case nuove, e il paese nuove, hanno abbandonato tutte le loro abitazioni, quindi c'è stato un momento in cui le case di Calcata sono state svendute, quasi regalate e chi ha avuto il coraggio di comprarsene, con l'incognita di non sapere se poi sarebbe stato possibile abitarci perché appunto non c'era ancora una vera e propria abitabilità del borgo, si è ritrovato in un posto che offriva la possibilità di vivere a contatto con la Nura vicino a Roma, e quindi io l'ho visitato, ho scelto questo posto perché ha il vantaggio di essere un posto veramente bello dal punto di vista paeseggistico, anche a qualità della vita vicino a Roma e quindi consentire anche un rapporto col tessuto urbano, con la realtà metropolitana insomma. Si è arrivato in che periodo? Nel 1980 sono arrivato. Poi tra l'altro, siccome io all'epoca mi dedicavo alla coltivazione di marijuana, quindi ho piantato alcune piantine ingenuamente nel fondo valle, poi siccome casa mia praticamente era un porto di mare, nel senso che arrivava gente che neanche sapevo chi era, che però veniva spesso a fare la raccolta delle nocciole, che era un'attività che consentiva di lavorare, avere un po' di entrate e quindi qualcuno non gradiva questa situazione quasi di comune hippie che c'era a casa mia, di anderi pieni, di capelloni, come qui c'era uno davanti che ancora imperterrito e quindi è successo che io una mattina sono andato a raccogliere le nocciole, appunto perché facevo questi lavori molto umili così e mi sono ritrovato un paio di rabbinieri in mezzo a sto campo di nocciole, dice lei e Federico Latteri, venga con noi, a casa l'hanno trovato alla fine perché neanche si era accorto, perché era un fascione, un cespuglio praticamente, no era proprio un cespuglio grosso, però il fatto che era una pianta maschio, cioè era una cosa proprio obverbiosa, non si poteva neanche fumare, quindi era un tentativo di coltivazione fallito, però siccome loro poi se ne sono accorti alla fine perché loro cercavano negli anfratti, nelle cose, c'era questa cosa, io dico meno male non si è accorto, poi sì, alla fine quando se ne stavano, sì, poi c'erano varie anche di cività castellare, poi praticamente che è successo? Loro alla fine si erano attaccati agli incensi, adesso analizziamo gli incensi perché chissà magari droga, e io dico vabbè analizzate, poi praticamente l'ultimo degli, come si dice, quello proprio, l'ultimo dei carabinieri, l'appuntato, dice ma guardi maresciallo che è sta pianta, dice è uguale alla fotografia che abbiamo in caserma, io dico e vai, quindi dopo mi hanno portato lì alla caserma di Faleria e uno mi ha detto guarda adesso se tu non li porti dove hai piantato questa erba qua, ti danno un sacco di botte, allora ha detto vabbè, allora era uno, no, 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 era solo una pratica che si usa in tutti i telefilm, c'è sempre il poliziotto buono che ti vuole aiutare, quello faceva il poliziotto buono e gli diceva io ti voglio aiutare nel senso è meglio che li porti dove stanno piantate queste piante perché sennò ti danno un sacco di botte, io sono amico tuo quindi ti voglio aiuto, io tanto c'era ben poco, ben poco da nascondere e quindi ho portato lì c'era un altro paio di piante e poi vabbè mi hanno fatto fare un giro del paese con le manette per far vedere che avevano fatto nel senso, sì nella jeep praticamente questa jeep c'era questa, questo era nell'81, io ce l'avevo vent'anni, vent'anni, sì ma purtroppo, certo diciamo che il proibizionismo è sempre una cosa che ha portato dei frutti veramente devastanti, comunque io infatti sono stato a vent'anni, dieci giorni dentro un carcere dove a mamma Gioalla il famoso carcere di Fiderbo dove fortunatamente siccome io sono arrivato questa è un'altra storiella divertente, scoltivazione, poi dopo fortunatamente avendo io un avvocato che ha fatto analizzare queste piante ha dimostrato che aveva un tasso di THC talmente ridicolo per cui praticamente non era possibile imputarmi perché non c'era niente, praticamente era canapone infatti la mia vicina di casa mi disse, ma perché dice noi anche coltivavamo la cana ma infatti anticamente è calcata, coltivavano la cana ma poi la portavano a Civita Castellana e ci facevano le lenzuola perché le lenzuola erano le cana, quindi io alla fine che avevo coltivato una specie di canapone qualsiasi, però mi sono fatto questi dieci giorni e quando sono arrivato a mamma Gioalla a questo carcere di Fiderbo, dopo due giorni di isolamento che non era isolamento, stavo con uno e avevo fatto non so quanti amicidi, dopo mi hanno mandato alla cella, dice questo è la cella dei drogati, quando si era alla cella dei drogati mi hanno chiesto se io avevo avuto la visita dei miei genitori e ho detto no ancora no, allora praticamente chi non ha i genitori che gli portano la famiglia e li porta da mangiare in carcere viene mandato insieme ai diseredati extracomunitari in una cosa che si chiama Camerone quindi io stavo per andare lì che la prima cosa che ti fanno è che ti violentano, quindi ho rischiato pure questo, fortunatamente mentre stavo andando lì perché mi avevano praticamente tolto da questa cella dei drogati perché non avendo io per loro un contributo per fare la spesa per mangiare perché nessuno mangia il rancho e quindi mi stavo avviando lì e fortunatamente l'altoparlante ha segnalato il fatto che i miei genitori dopo vent'anni erano venuti a trovare quindi è stato un dietro al fronte e diceva no va bene allora puoi stare con noi, sono stato in questa cella di tra virgolette drogati erano tutti i ragazzi voracci ma drogati e come li chiamavano loro perché a me mi hanno visto capelli lunghi così e dice che questo è stato fortunato perché sono degli episodi gravissimi che purtroppo in alcune situazioni hanno portato addirittura al decesso o ai traumi profondi a livello psicologico di tantissimi i ragazzi è veramente un aspetto buio repubblicano della storia repubblicana democrazia certo beh infatti è Calcata diciamo la nomea che ci ha sempre avuto è il paese dei drogati il paese dei pazzi però in realtà Calcata è sempre stato invece un posto di creatività di gente che si perché poi c'è stato e c'è ancora una profonda divisione della Calcata vecchia e Calcata nuova, allora Calcata nuova sono i vecchi abitanti che hanno sempre giudicato quelli di Calcata vecchia come appunto dei drogati, gente infrequentabile che è meglio il caso di un abitante di Calcata vecchia, purtroppo c'è ancora e c'è sempre stata questa divisione profonda però io spero che si può superare perché adesso è evidente che Calcata non è che sia un posto di criminali, Calcata è un posto di gente creativa, artisti, pittori, musicisti, falegnani, scultori, artigiani che magari in un periodo della loro vita se saranno fatti educarli ma questo non vuol dire che Calcata è un posto di criminali come è stato o di gente drogata come è stato dipinto in maniera sbagliata Certo, è chiaro, è logico Il problema che poi è stato creato forse anche a tavolino dai multinazionali che hanno l'uso della canapa che invece fino ad anni 60 in Italia era usata per il simpecchio Sì sì, tra l'altro la canapa anche come tessuto è molto più economico, molto più ecosostenibile del cotone però non si sa perché non viene sviluppato come settore e vabbè adesso fortunatamente in tutto il mondo la mentalità sta cambiando perché 23 stati dell'America nonché l'Olanda, adesso pure la Germania e moltissimi altri stati Anche la Cassazione ha depenalizzato l'uso a livello penale della marijuana per cui c'è un creato penale? Sì, vabbè, diciamo purtroppo in Italia siamo un po' indietro rispetto a altre realtà però quello che diciamo c'è da dire è che comunque purtroppo a Calcata c'è sempre stata un po' questa pressione un po' repressiva da parte delle forze dell'ordine, da parte dell'istituzione nei confronti di una comunità che in realtà ha fatto solo del bene perché Calcata se non fosse stata per i cui abitanti che si sono rimboccati le mani che hanno restaurato tutte le case, hanno rinforzato la rupe e l'hanno resa un borgo agibile e visitabile a quest'ora Calcata era un cumulo di macerie come è Faleria perché Faleria per esempio ha un paese vecchio che è stato abbandonato infatti neanche ci si può andare perché è un cumulo Esatto, quindi Ma ti ricordi la spia, il nome della spia? No, no, non l'ho mai saputo però sicuramente sarà stato qualcuno che gli dava fastidio il fatto che ci fosse questo movimento di ragazzi perché all'epoca c'erano molte persone, molti ragazzi che lavoravano stagionalmente quindi una delle possibilità era raccogliere le nocciole quindi mi venivano delle persone dalla Sardegna, sono arrivati proprio, mi hanno bussato dalla porta e dice ciao io voglio raccogliere le nocciole, io dico prego stai qui, li ospitavo e facevo così anche perché diciamo all'epoca c'era questo spirito comunitario, anche perché eravamo giovani, ci adattavamo anche a dormire con i sac a pelo per terra, quindi io penso che Calcata è stata salvata da questi tra virgolette chiamati all'epoca drogati, cioè era gente che comunque si è rimboccata le macchie e ha lavorato duro per creare quello che adesso è un borgo che è un'eccellenza del territorio, quindi bisogna, secondo me è sempre di più valorizzare Calcata anche dal punto di vista culturale e quindi anche di iniziative musicali che sono sempre armonizzate col territorio e possono dare un valore aggiunto al paese. Il locale che ho gestito si chiamava Altroquando e l'ho gestito con Cristina Mainero, clarinettista e Roberto Stanco, sassofonista che attualmente vivono a Faleria e quindi era una sorta di cooperativa di musicisti, giravano intorno a Altroquando i nostri amici, i nostri collaboratori ed era uno spazio che per un certo periodo di tempo ha dato, secondo me, vitalità e vivacità insieme ad un altro posto che è importante ricordare che è il Granarone di Mareike, una signora landese che anche lì si è spesa per fare eventi musicali, c'è un pianoforte, mostra eccetera. Quindi sono queste le realtà di Calcata che vanno valorizzate, che andrebbero addirittura secondo me sostenute, però invece spesso invece di essere sostenute vengono penalizzate, questo è il problema. Poi alla fine quando uno si mette in mente di fare un'iniziativa culturale, autogestita eccetera, spesso oltre a non avere un sostegno dalle istituzioni, invece c'è addirittura una sorta di opposizione, di ostacolo dalle istituzioni, infatti l'altro anno è stato chiuso per motivi burocratici totalmente assurdi, che a parte il fatto che purtroppo nella mentalità italiana, che è tipicamente italiana, il musicista, l'artista, il pittore, è gente che non lavora, è gente che non fa niente tra mattina e la sera, sfaticati, perdi tempo e invece questo è sbagliato, perché invece è proprio queste attività artistiche, queste attività culturali che danno un valore al territorio e sviluppano il turismo, perché oggi come oggi se un turista viene accalcata e non trova una mostra di quadri, non trova un negozio di artigianato, non trova magari anche un'iniziativa culturale che può essere musicale, ovviamente il posto perde l'interesse, quindi queste attività che danno vitalità. Grazie a tutti!